La musica scandisce il tempo, ma la musica condisce il tempo, perché questa notte portate le lancette indietro di un'ora, perché tutto quello che avete fatto dalle due alle tre non esiste, e quindi con le mani al cielo condiamo la nostra notte e il nostro tempo di musica. Signore e signori, benvenuti ad Hyper! Le mani al cielo come le lancette! Ho, 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 ho! Sì, sì, sì. che avete fatto in quest'ora non esiste più. Diamo vita alla musica, diamo vita al nostro tempo. 3, 2, 1, let's go! Grazie per la visione!